Nel cuore della notte il corpo di una giovane donna è stato ritrovato nella villa abbandonata di via Padre Gignocchi, nei pressi dei giardini pubblici. I familiari non avevano notizie della donna da alcuni giorni e ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobili della Questura hanno dato il via alle ricerche che, attraverso un controllo nelle diverse proprietà di famiglia, hanno portato alla villa di via Padre Gignocchi. Là è stato rinvenuto il cadavere della donna. Gli inquirenti seguono la pista dell'omicidio. Si tratta di G.B., moglie di un noto dermatologo e madre di tre figli. Il corpo senza vita è stato trovato nello scantinato nella villa, ma secondo gli inquirenti non è detto che l'omicidio sia avvenuto nell'abitazione. Nell'arco della giornata è in programma una conferenza stampa da parte degli uomini della Questura.